Buongiorno da FT Online, partenza debole per la borsa, Fuzzi Mib in calo del 0,4%, siamo intorno ai 24.420 punti. Vedete che le quotazioni stanno oscillando all'interno di questa figura a forma di cono, qui sul grafico intraday a partire dal minimo del 21 di aprile. Se il cono verrà confermato, quindi se i prezzi si manterranno come stanno facendo questa mattina al di sotto della base di questo wedge, di questo cuneo, come più propriamente chiamarlo con i termini dell'analisi tecnica, ci sarà il rischio di vedere riprendere la fase ribassista. Infatti molto spesso il wedge è una figura di continuazione della tendenza ribassista precedente che potrebbe riproporsi a questo punto nella ampiezza che abbiamo già visto. Quindi c'è il rischio di vedere scendere i prezzi di 700-800 punti dai valori attuali, perciò di scendere anche al di sotto di area 24.000. C'è la media mobile esponenziale a 50 ore che sostiene l'indice poco al di sotto dei prezzi attuali, direi che fino a che quella tiene si può sperare in un rimbalzo, la media passa a 24.395 al momento, se invece i prezzi dovessero scendere al di sotto della media verrebbe confermato il completamento del wedge con successivo rischio di discesa. Per tornare positivi sull'indice, al di là del fatto di vedere superati i massimi di ieri, sarà importante la rottura al rialzo di questa linea che parte dai minimi del 24 di marzo, visto che la base del testaspalleri bassista che si è disegnato dal massimo del 15 di marzo, la linea passa in questo momento intorno a 24.760 punti, solo sopra quei livelli si potrebbe dichiarare ripresa la tendenza rialzista. Anche il DAX è in una situazione di incertezza, sono 4 giorni che si muove lateralmente, è vero che anche in questo caso c'è un bel sostegno, comunque questa è la media esponenziale a 20 giorni che vedete al di sotto dei prezzi, questa curva rossa passa a 15.155, fino a che quel supporto tiene. Le possibilità che questa fase laterale si trasformi in un trampolino per andare a cercare di battere i 15.500 punti ci sono, resta però il fatto che anche in questo caso abbiamo questa figura a forma di cuneo disegnata dai minimi di ottobre che potrebbe essere un'onda 5 diagonale di una sequenza impulsiva ormai al termine e quindi c'è il rischio, fino a che i 15.500 punti non saranno alle spalle, di dover considerare questa fase un ultimo elemento di tutto il movimento rialzista che era partito dai minimi di marzo dello scorso anno. Pertanto attenzione perché per quanto per il momento ancora non ci siano segnali definitivi di avvio di una fase discendente, i presupposti ci sono. C'è un elemento che contrasta con l'avvio ribassista delle borse, in questo momento abbiamo una grande attività rialzista sulle principali materie prime, questo è il tema della giornata di oggi, ho scelto un po' di ETF quindi in modo che sia possibile replicare da un punto di vista operativo quello che diremo adesso, gli strumenti che ho selezionato sono questi, il rame, il nickel, lo zucchero, il caffè, i germogli di soia, il grano, il frumento, il gas naturale e l'indice CRB delle commodities in questa versione senza l'energia, qui trovate anche i codici ISIN, comunque metterò in descrizione del video queste note di modo che sia possibile per voi replicare l'operatività. Nella parte di libero accesso del video ci concentriamo su alcuni di questi strumenti, nella parte invece riservata agli utenti Patreon andremo a guardarne altri, in aggiunta che quindi sono per completare il quadro che avrei intenzione di presentarvi. Iniziamo con l'indice CRB che ovviamente è quello che rappresenta l'andamento del mercato nel suo complesso, vi ricordo che in questa versione dell'indice non c'è la componente dell'energia, siamo in prossimità di una resistenza importante, vedete i prezzi stanno cercando di forzare il massimo dell'8 di marzo, è vero che fino a che questo non accadrà ci sarà il rischio di essere in presenza di un doppio massimo, però visto l'andamento di molti dei componenti dell'indice, secondo me c'è una buona possibilità di rottura al rialzo di questa resistenza e a quel punto la fase laterale si dimostrerebbe un rettangolo, figura di continuazione della bella tendenza rialzista che abbiamo visto dai minimi di marzo dello scorso anno. Vedete che storicamente, questo è il grafico di lunghissimo termine, negli ultimi 12-13 anni la tendenza di fondo è stata principalmente ribassista, ci sono stati degli episodi correttivi ma poi il mercato ha sempre svoltato al ribasso, è evidente che in questo caso, come vi dicevo, c'è la possibilità di vedere questo completato come se fosse un rettangolo, quindi il target dopo i 15,50 euro sarà intorno a area 16,30 euro in prossimità di questa resistenza critica data dai massimi del maggio del 2018 che per la precisione si colloca a 16,35, quindi sopra 16,35 avremo poi un ulteriore segnale di forza che permetterebbe alle materie prime di proseguire al rialzo. Chi ha in mente il grafico della borsa nota le similitudini che ci sono di comportamento tra l'indice CRB delle materie prime e gli indici azionari principali, è evidente quindi che se questa similitudine, come è probabile, verrà rispettata anche in futuro, un segnale di forza sul CRB sarà incoraggiante anche per l'andamento delle borse, per questo vi dicevo prima che nonostante segnali di incertezza di DAX e Fuzzimib ci sono degli elementi che fanno pensare che potrebbe esserci una svolta rialzista e appunto l'andamento delle materie prime è questo fattore e al tempo stesso è evidente che se invece la resistenza di A15,50 non venisse superata, ritornerebbe o perlomeno non venisse superata in modo netto, tornerebbe d'attualità il rischio di essere in presenza di un doppio massimo e ci sarebbe da rifare tutto il discorso in direzione contraria, perché ovviamente avremmo un segnale di debolezza sulle materie prime che potrebbe riflettere anche una situazione analoga per gli indici azionari. Guardiamo adesso alcuni strumenti insieme che sono tra quelli che hanno appena o appena inviato un segnale di forza o potrebbero inviarlo, quindi quelli che da un punto di vista operativo secondo me in questa fase sono i più interessanti, iniziamo con il caffè, anche nel caso del caffè ieri c'è stato il test della prima resistenza che sono i massimi di marzo A0,73,80, sopra quei livelli avremmo una indicazione positiva, già il fatto che sia stata superata questa trendline con una bella accelerazione è un segnale interessante, sopra A0,74,75 ci sarebbe la possibilità di vedere risalire le quotazioni, secondo me in quel caso anche al di sopra dei massimi dello scorso settembre A0,76,50, quindi più probabile che i prezzi possano estendere in quel caso almeno verso A0,81, quindi un discreto margine a disposizione di una nuova fase rialzista. Per quello che riguarda il rame abbiamo avuto proprio nelle ultime sedute un bel segnale di ripresa, dopo una lunga pausa, vedete i prezzi da due giorni si stanno muovendo con decisione al rialzo, la pausa era stata una figura di forma triangolare, potremmo definirlo un pennant, di solito il pennant si colloca nella parte centrale di un movimento, quindi se prendiamo come riferimento il rialzo che c'era stato prima della pausa e in una modalità conservativa lo proiettiamo dal minimo del pennant, otteniamo un target intorno a 35,35,50, se invece andiamo a proiettare dalla porzione centrale del pennant, quindi diciamo con un target un pochino più aggressivo, il target si sposta addirittura a 36,50, è importante ovviamente nel caso del copper che i prezzi non ritornino al di sotto del massimo del 25 febbraio a 31,75. Per quello che riguarda il nickel abbiamo una fase laterale che si sta sviluppando ormai da alcune settimane che ha tutti i connotati di un doppio minimo, è vero che anche in questo caso potremmo essere semplicemente una pausa del downtrend, però visto come si stanno comportando gli altri mercati l'impressione che questo possa essere un doppio minimo, addirittura secondo me si potrebbe provare a comprare già sui prezzi attuali con uno stop subito sotto 12,35, anticipando anche la rottura di questa resistenza, oltre la quale ovviamente avremo un ulteriore segnale di forza sopra area 13,30 ci sarebbe la possibilità di arrivare fino a 14,20 almeno con target successivo a 14,70, quindi sul nickel si potrebbe adottare come vi dicevo una strategia aggressiva andando a comprare anche prima del completamento del doppio minimo visto che siamo in una situazione ideale abbastanza vicina ad un supporto rilevante che si può utilizzare come stop loss. Infine Soya Beans, abbiamo la rottura di questa resistenza orizzontale, io andrei a guardare anche questo canale che si sta disegnando dai minimi di gennaio, un canale rialzista, perché andrei a guardare questo canale? Perché se i prezzi dovessero confermarsi al di sopra del lato alto del canale potrei considerarlo quasi come se fosse stato un rettangolo vedete il canale ha un'inclinazione moderata e quindi possiamo considerarlo come una pausa della tendenza rialzista precedente che come vedete non ha mai ceduto, è stata toccata la linea di tendenza un paio di volte ma si è dimostrato un ottimo supporto, sulla trendline c'è questo bel martello dal quale è scaturito l'ultimo rialzo, se dovessero dei prezzi che superano in chiusura di seduta area 22, 22.10 avremo la possibilità di vedere ribaltata l'ampiezza del canale, ripeto si potrebbe considerare quindi come se fosse un rettangolo e il target si sposterebbe intorno ai 24 punti, quindi un bel 10% di ulteriore rialzo a disposizione. I soia bin sono in una situazione di veloce e ampio rialzo dai minimi dello scorso anno e nonostante l'accelerazione che c'è stata negli ultimi mesi la tendenza si è sempre prolungata, non solo ma invece di porsi il laterale quando ha corretto addirittura ha continuato a scappare al rialzo, quindi secondo me questo è un bel trend che si potrebbe decidere di cavalcare nonostante il movimento che ci sia già stato nel recente passato. Chi volesse fare un ragionamento di medio-lungo termine può scegliere di operare su tutti questi strumenti, quindi dividendo il rischio e tenere il CRB come riferimento operativo, quindi fino a che la resistenza della 1550 non sarà saldamente alle spalle magari di attendere prima di entrare sugli altri strumenti che vi ho mostrato, poi sopra quei livelli invece iniziare ad intervenire magari utilizzando poi uno stop loss trailing con una media mobile esponenziale a 10 periodi a 10 giorni da utilizzare come stop profit una volta che si sono intraprese le posizioni, quindi utilizzare il CRB un po' come barometro della situazione per tutto il mercato. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito come sempre a commentare i video nel caso ci siano dei dubbi o delle necessità che volete esplicitare e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.